Le forze dell'ordine scendono in campo contro la criminalità, lo spaccio di droga e l'immigrazione irregolare. Al setaccio Campo Marzo, le piazze del Centro Storico, Corso Santi Felice Fortunato, Viale San Lazzaro e i quartieri a est e a ovest di Vicenza. 30 uomini e donne della questura, della polizia ferroviaria e della polizia stradale, col supporto del reparto prevenzione crimine di Padova, con i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale, identificano 85 persone, di cui 32 straniere e 19 con precedenti penali o di polizia. 23 i veicoli e 6 i bar e le sale scommesse sottoposti a verifiche. Al momento sono in corso di approfondimento le situazioni relative al soggiorno in Italia di alcuni stranieri identificati.